Gaetano, ma com'è che siamo nuovamente alle prese con AstraZeneca? Te lo dico perché poi sta nascendo una forte polemica. Per esempio, il presidente della Regulia Toti ha detto guardate che le somministrazioni di AstraZeneca, gli Open Day, non è che l'hanno inventato le regioni. C'è stato un pressing anche da parte governativa nazionale. Sì, diciamo che le regioni hanno contribuito. È una scelta che ha fatto il commissario straordinario Figliuolo e che ha fatto sulla base di dati che sono sempre da verificare in aggiornamento continuo. Una cosa, un dato su tutti. Si è fatto e si sta facendo un immenso regalo ai Novax perché la confusione che deriva dalla mancanza di certezze assolute su quale vaccino utilizzare, su quali categorie, anche rispetto all'età, crea disorientamento, paura anche nelle persone. Allora, una cosa sola dobbiamo dire, su questa abbiamo certezza. I vaccini sono fondamentali per combattere la pandemia e sotto questo punto di vista bisogna affidarsi. Ma l'affidamento deve essere fatto a una responsabilità politica e una responsabilità scientifica che devono smetterla, un po' di rimpallarsi la mancanza di chiarezza sugli effetti che possono avere anche i vaccini e dire una volta per tutte quale vaccino fare, a quale fasce d'età e da quel punto di vista poi dare certezza alle persone. Vediamo allora se oggi finalmente arriverà, io devo dire, se arriveranno parole chiare, devono essere parole chiare, non devono essere raccomandazioni. Assolutamente. Ci vuole una linea molto chiara. Allora, facciamo così.